Vi avevamo presentato la situazione in cui riversa la strada in via Montegrappa, che da Campolongo sul Brenta va in direzione Solagna, dove il manto stradale si presenta dissestato e con buche. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Val Brenta. Anche noi riceviamo tante segnalazioni, siamo per primi consci dello stato della strada, in particolare sulla zona che voi avete segnalato. Preme però rilevare che da Bassano fino al confine della strada per Foza la strada è provinciale, quindi non è di competenza del nostro comune, mentre poi dall'inizio di Vastagna a Foza vi è un'altra provinciale. Quindi diciamo che da Bassano fino a Vastagna la competenza è della provincia di Vicenza. Per noi è anche l'occasione di far capire che quando si amministra un comune non è per il semplice fatto che un'arteria passa per il comune di quell'amministrazione che l'amministrazione ne abbia la responsabilità. Quindi quello che noi possiamo fare e facciamo regolarmente è di sollecitare l'ente competente, questo vale per ANAS nella statale 47, vale per la provincia e vale laddove vengono fatti dei lavori di Etta.